L'errore del ministro San Giuliano. Colombo influenzato da Galileo. Rapporto. La controversia sulle dichiarazioni del ministro San Giuliano su Colombo e Galileo. La recente affermazione del ministro italiano dell'istruzione Gennaro San Giuliano ha suscitato un'ondata di indignazione nei media e nella comunità scientifica. Durante un discorso ufficiale, il ministro ha affermato che Cristoforo Colombo, durante i suoi viaggi di scoperta, sia stato influenzato dalle idee di Galileo Galilei. Questa osservazione ha scatenato non solo controversie storiche, ma ha anche messo in discussione la credibilità del ministro. La vicenda ha avuto inizio quando San Giuliano ha parlato durante una cerimonia in onore di Colombo. Nei suoi discorsi ha sottolineato l'importanza dell'esploratore italiano e ha elogiato i suoi successi. Tuttavia, ha anche sottolineato che le idee rivoluzionarie di Galileo Galilei hanno sicuramente influenzato le scoperte di Colombo, scatenando immediatamente un acceso dibattito. Reazioni dalla comunità scientifica. La comunità scientifica ha reagito prontamente e con critiche evidenti. Storici ed esperti di scoperte marittime hanno sottolineato che Colombo scoprì l'America nel 1492, quasi un secolo prima che Galileo Galilei pubblicasse le sue opere principali e facesse le sue scoperte in astronomia e fisica. Un storico dell'Università di Roma, il professor Lorenzo Carboni, ha dichiarato. Galilei è nato solo nel 1264, mentre Colombo ha intrapreso il suo primo viaggio già nel 1492. L'affermazione del ministro è storicamente scorretta e fuorviante. Anche rappresentanti del mondo accademico, come la professoressa Maria Bianchi, una rinomata storica dell'era rinascimentale, si sono espressi su questo argomento. Secondo Bianchi, il ministro dimostra una preoccupante ignoranza della storia e le sue affermazioni sono pericolose, in quanto falsificano i fatti storici confermati. Bianchi ha anche aggiunto che le scoperte scientifiche di Galileo non hanno alcun legame storico con i viaggi di Colombo. Reazioni politiche e pubbliche. Oltre alle critiche provenienti dal mondo accademico, ci sono state anche reazioni politiche. I rappresentanti dei partiti di opposizione hanno colto l'occasione per mettere in dubbio la competenza di San Giuliano e la sua idoneità per il ruolo di ministro. Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico Italiano, ha commentato in un tweet. Come può un ministro dell'istruzione essere così ignorante su fatti storici così fondamentali? Non abbiamo spazio per la disinformazione nel settore culturale. Il messaggio si diffuse anche sui social media, dove molti utenti hanno preso in giro il ministro con meme e satire in risposta ai suoi errori. Hashtag come Stasht San Giuliano Fail e Colombo San Galileo sono diventati rapidamente popolari e hanno scatenato un ampio dibattito sull'istruzione storica e la responsabilità nei ruoli pubblici. Nella difesa e correzione di San Giuliano, in mezzo alla crescente controversia, Gennaro San Giuliano ha rilasciato una dichiarazione ufficiale cercando di ridimensionare le sue affermazioni. Il ministro ha affermato che le sue parole sono state strappate dal contesto e che in realtà intendeva evidenziare un'influenza generale dei progressi scientifici dell'era del Rinascimento. «Non è mai stata mia intenzione stabilire un collegamento diretto tra le due figure storiche», ha detto San Giuliano. La mia affermazione riguardava lo spirito di scoperta e di scienza che ha caratterizzato quest'epoca. Tuttavia, le sue giustificazioni non sono state sufficienti per riparare al danno. I critici hanno sottolineato che per un ministro della cultura è essenziale diffondere informazioni precise e storicamente corrette, specialmente in discorsi pubblici che raggiungono milioni di persone. Il ruolo della precisione nel dibattito pubblico. L'incidente solleva anche importanti questioni sulla responsabilità e professionalità dei funzionari pubblici, in particolare in settori come la cultura e l'istruzione, dove rappresentazioni storiche corrette sono cruciali. Gli esperti sottolineano che l'istruzione e la conoscenza approfondita sono essenziali per evitare il revisionismo storico e le informazioni sbagliate. Il professore Roberto De Luca dell'Università di Milano si è unito a questo pensiero. Le informazioni false si diffondono oggi più velocemente che mai. È quindi di fondamentale importanza che i funzionari pubblici, in particolare quelli nell'istruzione e nella cultura, prestino grande attenzione alle loro parole e non distorsionino i fatti storici. Il caso San Giuliano probabilmente rimarrà ancora a lungo oggetto di discussione pubblica e potrebbe anche avere conseguenze politiche. Le richieste di una migliore formazione storica per il personale politico e un maggiore controllo sulle dichiarazioni dei pubblici ufficiali potrebbero diventare più forti a seguito di questa controversia. Autore Anita Fache data lunedì 24 giugno 24